Sono Gigi Moncallo, e vi voglio dare un appuntamento, tutte le settimane su Rete Economy, Agnelli segreti, la ricostruzione documentata e vera appuntate di tutti i segreti di Giovanni Agnelli, del suo patrimonio nascosto all'estero e sottratto al fisco e soprattutto della tremenda frattura che c'è stata all'interno della famiglia a causa di questo patrimonio, tra Margherita, la figlia da una parte e dall'altra Donna Marella, la vedova, e il suo nipote primo genito John, figlio di Margherita. Tutte le settimane su Rete Economy, Gigi Moncalvo vi aspetta. Arrivederci.